Non saranno collocati in un centro nei pressi dell'inceneritore i soggetti affetti da autismo. E insieme possiamo, che fin dall'inizio si era battuto contro questa ipotesi, a dare notizia di una interrogazione che era stata presentata da Sì Toscana a Sinistra in Consiglio regionale. Una interrogazione rivolta all'assessore regionale Saccardi, tesa a ottenere un intervento della regione affinché fosse rivista la decisione prevista da un protocollo d'intesa. È stato direttamente il dottore Enrico Desideri, direttore generale della ASL, a mettere una pietra tombale sul protocollo, riportano da Insieme Possiamo, scrivendo testualmente all'assassassardi come riporta l'interrogazione che in relazione ai pareri raccolti sui terreni citati, quelli dove sarebbe dovuto sorgere il centro del progetto di inclusione, proprio sotto i camini di Aisa e Safimet, richiamandosi al principio di precauzione e cautela, l'azienda sanitaria ritiene di non procedere alla formalizzazione del protocollo d'intesa. Il centro doveva sorgere in un terreno non sfruttato che includeva anche un'ex casa colonica. Insieme Possiamo, nel ribadire la soddisfazione per il positivo esito della vicenda, che è stata sollevata lo scorso 19 agosto, non può non stigmatizzare la completa latitanza e assoluta assenza di prese di posizione su questo tema da parte non solo della Giunta e del Sindaco, ma anche di alcune forze politiche riconducibili al centro-sinistra.